Due punti persi o uno guadagnato? È il dilemma che si porta a casa l'Aquila dopo l'1-1 rimediato al Fattori nello scontro salvezza con il Sant'Arcangelo. Un match subito in salita per gli Aquilani, a causa dell'ennesimo errore individuale che già altre volte aveva portato allo svantaggio nella prima mezz'ora di gara. A differenza delle sfide con Pontedera e Savona, gli Aquilani di Perrone sono però riusciti a raddrizzare la contesa già a fine prima frazione, grazie alla prodezza di Raffaele Perna che racconta così la rovesciata dell'1-1. È stata una cosa istintiva che mi è venuta così da fare, ogni tanto ci provo anche in allenamento e oggi è andata bene e sono contento. No, da rivincita io non ne prendo su nessuno, né tifosi, né nessuno. Io sono semplicemente un giocatore che durante l'allenamento cerca di mettere in difficoltà l'allenatore e oggi sono contento soprattutto per questa risposta che ho dato, perché a volte magari uno cerca di far tanto e non riesce a mettere in pratica quello che vorrebbe fare o magari è talmente comunque sia arrabbiato che riesce comunque sia a fare una partita magari sotto tono. Perna parte titolare e sfrutta al meglio la sua scienza a causa dell'assenza del capitano De Sousa per influenza. Per il resto confermato in blocco il 4-4-1-1 di una settimana fa con l'unica novità sulla fascia difensiva di destra dove Bigoni sostituisce Sanni. La doccia gelata al fattore arriva già al quarto minuto. Rossi ruba palla e sfonda sulla sinistra. Il cross non è irresistibile ma Zandrini interviene maldestramente di pugni. Il pallone carambola sul piatto destro di Margiotta che fa 1-0 Sant'Arcangelo. L'Aquila prova a reagire qualche minuto più tardi con San Domenico rasoiata a salve e intercettata da Nardi che respinge sui piedi di San Domenico che conclude stavolta sull'esterno della rete. Quindicesimo minuto. Ceccarelli va via in bello stile su Ilari e conclude a giro di sinistro fuori non di molto. Al ventesimo ghiotta Schanz per il pareggio. Perna servizio facile per Ceccarelli. Il destro non è il suo piede e si vede. Palla in braccio a Nardi. Al quarantesimo però la pressione dell'Aquila porta al meritato pareggio. D'azione d'angolo il colosso Maccarrone fa da torre per Perna. Rovesciata ad altissima fattura che si inzacca sotto la traversa. 1-1 e primo gol in campionato alla prima da titolare per Raffaele Perna. Grande soddisfazione e riscatto personale per l'attaccante Campano che era stato ampiamente criticato e sul piede di partenza per tutto il mercato estivo. Perna che poi nella ripresa avrà due chance per completare la giornata perfetta. Prima ci prova con questa rasoiata in diagonale che fa la barba al palo alla sinistra di Nardi. Quindi al sessantanovesimo approfitta di un errore difensivo e tenta di superare il lobby il portiere ospite. Ancora l'Aquila che nella ripresa è costantemente nella metà campo del Sant'Arcangelo. D'azione d'angolo incornata ancora di Maccarrone sulla linea. Si salva la difesa romagnola. Ultimo brivido al quarantesimo della ripresa. Annullato il gol a Palmieri per un presunto fallo di mano. 1-1 dunque il finale alla Fattori ma in sala stampa il tecnico rosso-blu Carlo Perrone mastica Amaro per i due punti persi. I punti sono sempre importanti perché è meglio un punto che zero però è l'ennesima partita che disputiamo in un certo modo e secondo me raccogliamo meno di quello che abbiamo seminato. Quindi da parte mia c'è un grosso rammarico, anche una sorta di arrabbiatura perché sono arrabbiato che si ripresentano sempre delle stesse situazioni alle quali poi non si sa come riuscire a porre un'argine. Perché comunque questi errori che si ripetono sono una costante che poi un allenatore ci può fare fino a un certo punto.